Marzo, se no potevo allontanarmi, ma la prima data utile era il 22 febbraio a Ruvo di Puglia. Abbiamo dato immediatamente un pronto servizio alla cittadinanza, infatti molte persone erano in trepidante attesa di potersi finalmente vaccinare. Abbiamo avuto subito un grande riscontro, infatti già dalle due di oggi pomeriggio c'era una coda ben gestita di persone che avevano intenzione di vaccinarsi il prima possibile.